Oggi il sindacato di polizia COISP più che mai sente il dovere di esprimere un forte elogio e parole di apprezzamento nei confronti dei colleghi delle volanti per gli eccellenti risultati, grazie alla caprabietà e alle spiccate qualità professionali dei ragazzi sempre in prima linea che hanno permesso di assicurare alla giustizia un cittadino, restosi responsabili del reato di tentata estorsione, resistenza e minaccia pubblico ufficiale. E' quanto scrive la segreteria provinciale del COISP Crotone in relazione all'intervento che ha visto protagonisti gli omni della squadra volante della questura di Crotone lo scorso 7 settembre. In quell'occasione, si legge nel comunicato, mentre la volante effettuava il normale servizio di controllo del territorio, veniva inviata in ausilio a personale della locale polizia municipale per un soggetto che brandiva un coltello cercando di estorcere denaro a un cittadino crotonese. Non con poche difficoltà, gli stessi agenti sono riusciti ad accompagnare il soggetto presso la locale questura dove una volta giunti il soggetto riprendeva ad inveire e ad aggredire fisicamente gli operatori. Pertanto, veniva anche deferito per i reati di minaccia e resistenza al pubblico ufficiale. Oggi, conclude il comunicato della segreteria provinciale COISP, questa organizzazione sindacale esprime appunto parole di elogio per tutti i colleghi intervenuti. Ed è certa che il signor Pestore, quale autorità di pubblica sicurezza, massimo referente della Polizia di Stato nella provincia, esprimerà presto un giusto riconoscimento per l'operato di questi poliziotti che, per la professionalità e la fermezza dimostrata, meritano certamente di essere premiati.